Grazie per l'ospitalità, grazie a Tiziana per avermi invitato in qualità di vicepresidente dell'Assemblea Capitolina ad un convegno che riguarda la città di Roma ma riguarda un tema in particolare che è quello del turismo. Io ho apprezzato molto gli interventi che si sono preceduti e certamente alcuni spunti di riflessione in tal senso vanno carpiti perché quando abbiamo davanti a noi degli interlutori che sono i diretti interessati di un settore in particolar modo come quello del turismo alle porte chiaramente di avvenimenti importanti che venivano richiamati nella nostra città e in particolare quello del Giubileo sul quale io ero stato invitato ad intervenire insieme ad altre autorità che so che purtroppo per motivi legati anche ad un aspetto che riguarda Roma che è la mobilità e che certamente non sono in questo momento presenti, io credo che questo tipo di appuntamento che oggi stiamo vivendo è un appuntamento importante e voglio ribadire alcuni aspetti che sono stati presi in considerazione da un po' tutti quanti gli intervenuti. In particolar modo Roma capitale e la città di Roma ha ruolo fondamentale sul turismo e soprattutto rispetto all'Italia perché come si diceva poco fa il turismo ha una grande incidenza sulla città di Roma, ha una grande incidenza anche nel tessuto urbanistico, commerciale e anche turistico della nostra città però certamente non siamo una città all'avanguardia, non siamo una città che può essere paragonata a delle città europee, è stato fatto qualche esempio prima rispetto a dei momenti anche di workshop che sono stati fatti anche in altre capitali europee e certamente Roma su questo deve necessariamente migliorare anche perché come ben si sa l'anno successivo sarà un avvenimento importante per la città di Roma che è quello legato al giubileo, anche se questo appuntamento è un appuntamento che bisogna essere onesti e bisogna dirlo sarà un appuntamento più legato ad un aspetto che sarà quello della solidarietà e soprattutto anche del momento che è quello della cristianità dove chiaramente sarà un tipo di turismo totalmente differente rispetto a quello che è il turismo che Roma ospita ogni anno con i suoi 14 milioni e mezzo e soprattutto con le sue magnifiche strutture, con il suo settore produttivo nella città. Questo cosa significa? Significa che Roma deve avere una visione, una visione anche in funzione di altri appuntamenti perché certamente Roma non può essere una città che deve ricorrere anche a degli avvenimenti come quelli del giubileo o a degli avvenimenti che possono essere quelli legati a degli appuntamenti anche legati a momenti anche istituzionali e non solo perché chiaramente e necessariamente deve avere anche degli investimenti e su questo chiaramente nel richiamo che qualcuno ha fatto certamente una funzione molto molto importante l'ha il governo. Il governo che in qualche modo deve riformare intanto una legislazione, consentitemi di dirlo, sulla differenza anche di quale sono le attività ricettive e quale sono le attività che non si considerano come ricettive. Su questo specifico caso, ad esempio faccio un piccolo appunto, noi siamo stati chiamati da molto poco a trattare nel nostro bilancio comunale una serie di tassazioni che mi confermeranno sono quelle legate anche al settore turistico, ad esempio la tassa di soggiorno e ahimè io diciamo con alcuni colleghi abbiamo cercato di far capire anche la differenza che andrebbe fatta all'interno di questo sistema produttivo della nostra città, non può essere e non è pensabile che questo tipo di differenza si faccia da una stella ad un'altra con un semplice euro e poi probabilmente abbiamo migliaia e migliaia di attività che sono un BNB che attualmente non hanno un costo paragonabile ad una struttura che fa un investimento anche molto più sfigo e soprattutto si deve anche mettere in una condizione anche di investimenti non solo economici ma anche di know out e di risorse umane perché chiaramente all'interno della struttura certamente il ciclo produttivo è totalmente diverso da quello di un BNB e chiaramente su questo la legislazione è molto direttamente. Detto ciò è evidente che qui c'è bisogno di un intervento nazionale che deve mettere innanzitutto un aspetto fondamentale che è quella della tutela di una categoria che fatemelo dire è quella degli albergatori, una tutela non solo da un punto di vista anche di tassazione ma anche da un punto di vista fiscale perché da quello che si è evinto da moltissimi studi e soprattutto da circa anche degli approfondimenti che sono stati fatti dalla politica attraverso l'ausilio della Polizia Municipale circa 3.000 attività a Roma sono BNB e molto spesso queste BNB non sono neanche censite nel nostro database del Comune di Roma e quindi non possono necessariamente pagare questa famosa tassa di soggiorno creando uno squilibrio economico di milioni e milioni di euro all'interno delle casse del Comune di Roma. Certamente questo è un danno economico non solo alla città di Roma ma è un danno economico all'immagine della nostra città. Poi c'è un aspetto fondamentale, voi dovete ben sapere che la tassa di soggiorno all'interno del Comune di Roma rispetto a tutte quelle attività che sono oggi all'interno della nostra città cubano 80 milioni di euro. Questo significa che gli albergatori della nostra città rispetto alle entrate e agli ingressi dei turisti che arrivano in Italia classificando chiaramente dalle 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle, aumentano nel getto delle casse del Comune di Roma circa 80 milioni di euro. Certamente fatemelo dire è impensabile che una parte di questi proventi che chiaramente i turisti e non i cittadini romani non ricada nell'ambito del settore del turismo e quando dico non ricada nell'ambito del settore del turismo non dico che la città di Roma deve dare un eco incentivo all'albergo, non voglio fare i nomi per fare pubblicità rispetto a qualche impresa, ma non deve necessariamente privarsi di fare degli investimenti, significa infrastrutture, significa piano della mobilità, significa servizio di trasporto pubblico, significa anche una rete con il trasporto pubblico privato, avete visto anche il caso del tassista, immaginate se questo caso fosse accaduto all'interno di una persona che comunque veniva qui in una vacanza romana di 1-2 giorni che tipo di opinione pubblica rispetto a quelle immagini che si diceva poco fa avevano creato nel mondo, certamente questo non è meno rispetto al fatto che sia successo ad una cittadina romana che peraltro è una donna o una tassista e questo chiaramente non ci esime di prenderci anche una responsabilità su questo, però è chiaro che vanno fatti degli investimenti rispetto a questi 80 milioni di euro. Io credo che quello che competa alla politica e alle istituzioni e qui chiaramente non ci debba essere quella che è la distinzione che molto spesso si vede anche dai media, dalla destra, dalla sinistra, il bianco piuttosto che il rosso, è evidente che bisogna fare una promozione e una visione unitaria, Roma non può essere una città all'avanguardia se non si pensa ad una serie di cose che possano essere funzionali anche alla crescita non solo del turismo, alla crescita dell'elogastronomia, alla crescita di quello che possono essere le attività complementari della piccola e media impresa, quando si parlava anche della terza età, perché chiaramente diventa difficile oggi ospitare anche, diciamocelo, delle persone con un'età anagrafica alta nella nostra città perché poi certamente i mezzi pubblici non sono accessibili, la metropolitana ha problemi di accesso per i disabili, le strutture alberghiere alcune di esse hanno ancora un piano urbanistico o anche un piano manutentivo che non consente chiaramente l'accesso con facilità, i musei hanno una serie di impedimenti che sono non impedimenti ostativi per quanto riguarda l'amministrazione ma per quanto riguarda la sovrintendenza perché lì si poi subentra anche una competenza che alcuni tipi di intervento devono essere variati dalla Commissione del Ministero dei Beni Culturali. Tutto questo chiaramente va fatto, va preso in considerazione, va fatto anche una commissione che noi adesso lanceremo, penso a giorni, che è quella relativamente anche ad un altro appuntamento che è quella delle Olimpiadi, del Giubileo e anche di quello che possono essere gli appuntamenti e gli eventi che la città di Roma deve ospitare perché noi sappiamo ad esempio già che l'anno prossimo avremo il primo workshop mondiale di tutti i farmacisti del mondo e ci saranno nella nostra città circa 12.000 farmacisti, immaginare un grande appuntamento e non essere pronti da un punto di vista anche di infrastrutture, di opere, di tutto quello che può essere anche la cosa più elementare, più stupida che un Comune di Roma deve mettere e quindi quando intendo più stupido è esempio il servizio di bagni pubblici che non funziona all'interno delle stazioni metropolitane, il servizio ad esempio nelle zone monumentali, situazioni di degrado e di illegalità che si vedono nelle zone più turistiche perché dove c'è chiaramente più un core business, un'attività di decoro rispetto anche alla sistemazione di alcune ville che sono storiche nella nostra città e quando dico ville storiche mi rivolgo non solo alla classica villa borghese che potrebbe essere paragonata alla villa più importante di New York che conosciamo tutti per la sua bellezza e per la sua modestiosità ma certamente anche ad altre ville che possono essere di là, da Villa Panfili e altre ville, tutto questo va fatto chiaramente con una visione unitaria e io mi auguro che questa commissione che nascerà fra qualche giorno e peraltro che verrà consegnata anche nelle mani di una parte dell'opposizione proprio per far capire anche il clima con cui si deve lavorare perché altrimenti sarebbe facile dire che è colpa solo ed esclusivamente della maggioranza che è guidata da un sindaco che comunque non risponde a quelle che sono le esigenze dell'opposizione, il fatto che si sia concessa nei confronti di opposizione è lo spirito giusto per iniziare a costruire qualcosa di concreto, certamente i tempi sono lunghi, i tempi non sono immediati perché come dicevo purtroppo bisogna mettere in campo una serie di realtà che sono regione, governo e anche alcuni ministeri in campo però ecco questo è lo sforzo che va a fare e io credo che questi appuntamenti servano non solo a me ma anche a chi comunque svolge un ruolo anche non in modo attivo all'interno della politica romana a fare anche delle proposte e eventualmente anche nell'ambito di questa commissione che nascerà dove chiaramente io rivolgerò l'invito visto che comunque questo convegno è stato anche un elemento, uno spunto per alcune impressioni sulla città di Roma ma non solo nella città di Roma perché abbiamo avuto anche il piacere di ascoltare anche interventi che si sono spesi per altre regioni io credo che sia anche utile fare un confronto con altri modelli che esistono come quello della Sardegna, come ad esempio quello della Toscana o come quello del Piemonte ad esempio su un tema che è quello dell'enogastronomia dove noi peraltro abbiamo nella nostra provincia di Roma delle eccellenze e quando parlo di eccellenze anche dei prodotti molto importanti portati all'estero dove chiaramente per quanto riguarda l'enogastronomia Roma e il Lazio non sono sicuramente da meno e io credo che questo è il lavoro che noi dovremmo fare tutti insieme perché credo che quando parliamo di Roma dobbiamo essere orgogliosi di esserlo ma soprattutto anche di cercare di far trapassare un messaggio anche di prospettiva ma soprattutto anche un messaggio di crescita per la nostra città. Grazie. Grazie.